Ma che mi si regalato?! L'Un anno diworkanna? Ueeh Madero E devo la nota ma non la piscina TATATATATA Jingle bell Jingle bell Jingle Lord way Over anticipate All right And I'm just in free Mi sto cagando cazzo Jog uorl de merda Ah, ma ci si muove? Ah, ma si muove, non devo... Ah, mi posso muovere, ah, ma che cazzo ne so io? Che devo premere? Dovevo andare? Ah, come si fa a premere i pulsanti qua? Guarda, io mi sto muovendo qua, guarda, ma non va, porca troia, guarda. Che dè qua? Che dè, la cazzo da morto? Porca manoda, porca manoda! Allora, la stella? Ah, è vero, la stella. Che dè? E chi è qui su? E chi dè? Ah, ok, è iniziato. Abbiamo l'accendino. Un piccione, oh. Un gatto, che roba è? No, un piccione. Ma che devo fare? Cioè, non ci sta scritto un obiettivo. Dove devo andare? Che devo fare? Ah, devo andare qua dentro? Ciao. Allora, Matrix Enzo. Nems 1. Mi pare inominciato da qualcuno. Che c'è sta l'apocalipse? Non capisco chi è. Tab. Agna, Agna ha detto di aver lasciato una sorpresa per me vicino alla porta. Agna. E qual è la porta? Quale porta? Questa? Questa? Questa porta? Quale? Questa porta? Quale? Giusto Agna? Agna! Ah, ecco, ecco, ecco. Probabilmente la sopra... Ah, ecco l'Agnna. Agna, grazie, mi hai fatto un realo, mi hai fatto. Ah, con la F? Ok, qua. Grazie, Agna. Agna più Dima. Quindi sono io. Ah, io mi chiamo Dima. Apri. Io. E io, dai, che me sta a perdere tempo, porco diavolo. Su! Vuole F? Ci sta, l'accendino? Ci sta. Ci dè? Ci dè, oh! Agna, sei tu? Agna! Agna! Lo cazzo devo andare? Agna! Dai, lo telefono. Scarpe? Ah, ma che stavo a scopare stasera? Che roba devo fare qua? Che devo pigliare? Che è qua? Che devo fare? Come si fa a prendere la roba? Non capisco come si prende la roba. Accende le luci in tutto l'appartamento. Ah, è vero. E come si accende? Ah, qua. Qualcun... Chi è? Chi è? Specchio rotto, madonna. Mi pare che qualcuno qua ci ha litigato qua dentro. Ok, mo qual è l'obiettivo? Controllo il regalo. E dove? Come cazzo faccio a controllare il regalo? Il regalo devo controllare? Dove sta il regalo? Ah, eccolo. Controlliamo il regalo. E' essolo. Ma che regalo è? Un regalo che merda! Ma che mi sei regalato? Non hanno il giardino? Che brutto, porca troia. Che brutto, Dio. Che bambola orribile. Da dove l'ha presa? Eh, da rubuscio del culo, te lo dico io. Madonna, se brutta. Se una donna mi ha regalo sta roba, io... La manno ha spunto a sangue. Vai in camera 2. E dove sta la camera mia? Sta qua? Ah, sta qua la camera mia. Ecco. Ok. C'è sto in camera mia? No, non è questa la camera mia. Guarda, pieno di bambole. Di arete. Una scopa. Piano fuori. E' bannola da macchina, però, dai. Sì, vai in camera tua. Dove sta la camera mia? Che io non so dove sta la camera mia. Qua? Questa? Qua? Come cazzo è fatta sta casa? E qua? Cod'è? Devo riadunare il mio zaino. Si è conclusa la prima settimana di chi? Svuota lo zaino, ok. Apriamo lo zaino. Che ci sta? Allora, Dima. Sono contenta che frequentiamo la stessa scuola. Ehi. Agna più Dima, ok. Cod'è qua? Warning. Possibile epileptics associated with increased sensitività. Oh! Ancora! Ancora, porca troia! E su! Chi è che deve spegnare la luce, porco? Chi è? Chi è? Ma te ne vai a fanculo o no? Tu che cazzo ce fai qua seduto? Nella vasca da bagno devo andare? Ah, no. Qua. Sullo frigorifero, ho detto. La lista delle cose da fare sullo frigorifero. Quale è questa? Allora, dimmi papà, io siamo preoccupati per te. Cerca di capire solo una cosa, affrontare questo cambiamento, ok? La lista delle cose... Eccola. Ma che cazzo di lingua è questa? C'è con Slovacchia. Allora, da papà cosa da fare? Uno, sistemare il divano, lavare i piatti, pulire la stanza grande, pulire la cucina, portare... Ok, vai, iniziamo, io. Il soggiorno e il divano. Chi è? Ma che ci stanno i fantasmi? Chi è? Lo divano. Ma che cazzo gli devi sistemare lo divano, ok? Chi è che sta a suonare lo trombone? Ma chi cazzo ha già messo questo qua? Chi ce l'ha messo questo? Ammazza se... Ammazza se c'è l'hai grosso, porca puttana ragazzi. Lava, 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 io. Lava, lava, io. Lava, lava, io. Tutti le piatti, io. Vai, lava, lava. Sì, suga, suga plate. Suga e bia ta lei. Come cazzo si dice? Suga e menugazzo. Pulisce il soggiorno, ok? Siete stati voi, raga? Ma chi cazzo è? Digna? Digna, digna, sei tu? Agna 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 Por... Agna Tu E mo che cazzo devo fare nel corridoio? Ma come la c'è nella luce sul corridoio? Che qua non si apre la porta Ah, da qua si apre Chi è? Chi è? Ma sto gioco non fa paura, ragazzi Questo gioco non fa ride Ma che pare Ah, dai che devo andare a accendere la luce Dai Devo andare a accendere la luce Su Che te pigliessi un corpo di dio secco Faccio la bella doga Do sta la luce? Qua stava Ok Mo Pulire il soggiorno Qua Che cazzo ti devo pulire qua? Non ci sta niente da pulire Ah, devo pigliare la scopa, ok Io la scopa, ok Bella precisa la scopa Eh, ho capito Ma poi Ah Bello sistemata Precisa Devo pulire la cucina Andiamo Andiamo qua Se spegne la luce E si chiude la porta No Ah Qua chiudo la porta Perché poi Magari entra in altri Qua Sento freddo Meglio chiude Vabbè Qua pulisce tutto Mi chiude qua Poi Ok Sta a buttare la spazzatura Do sta? Jakob Forster Windai Dove vanna? Devo vanna a buttare la spazzatura Vai andiamo Bella precisa Cioè, sì Mi fa un po' paura Ma Che dè? Chi è che sta a giocare a pallone? Ma c'è sta una trama Oppure Solo Così Porca troia Ma sa che mi tocca Far giro qua Chifo di città Porca troia La città più brutta Di questa Non la sono mai vista In vita mia Ok 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 Ha buttato via la bambola Con gli obiettivi Eh, torniamo a casa Certo Ha buttato la spazzatura Certo Se torno a casa Pulito casa Stiamato casa Pulito i piatti Fatto tutto Allora A parte tutto Ragazzi Beh Sembra Una roba normale No? Sembra una vita normale Da una persona C'ha la moglie C'ha i figli Torna Torna a casa Dalla Ui Chi è? No Dalla vicina Chi è? Signora Tutto bene? Oh Signo Signora Signo Che stai fa? C'è l'asma? Signora C'è l'asma? Au Chi è? Ma questo è da manicomio Au Signo Cazzo Ma qua non si apre Dall'alto Do cazzo Devo passare qua Da qua sotto No Non si passa qua Devo trovare chiavi Per aprire No Sì Qua per aprire Ci vuole la madonna Ci vuole la madonna E Dio Trova una via d'uscita Ma dov'è che si scappa? Au Ma da dove cazzo? Ah Chi è questa? Chi è? Gioca con me Chi è? Rabbit Ma fai cadere dentro un culo La zucchina Ma vaffanculo Tessorata Eh Torna a casa Certo Chi è? Ma porca troia Ma te so buttato Tendo la spazzatura Poco fa Ma che cazzo vuoi da me? Chi è? Chi è che cacarcazzo? Dove sta il telefono? Un telefono proprio Molto moderno Ah la vicina di casa Quella morta Agna E perché me l'hai regalata? Esatto Dì ma Ti senti bene? Bra Chi è? Au Chi è? Esci da casa Eccomi Chi è? Sta bambola da merda Mannaggia te Agna E quando me l'hai regalata Vaffanculo sorda Ma che puttana Ma che d'è qua? Eh Ma qua non era così prima Che cazzo devo fa qua? Au Au Mi dici come cazzo? Come faccio a scappare casa? E qua è chiuso C'è stata una finestra Che cazzo dove devo andare? Quanti cortelli ho nascosto In tre armadi in cucina? Ma che cazzo ne so In quanti Quanti cortelli c'è Porco demonio Ma è matta questa Onda fino a 5 1 2 3 4 5 Qua? Ah c'è sta l'u codice Quale cazzo è l'u codice? Che bella Apri la botola E trova tre regali Dell'albero natale Eh ma va? Dove sta? Devo metterci l'u codice Ma qual è l'u codice? L'u cazzo Che te sei in cura Come fai a capirlo? Allora l'u codice Io non è che sto tanto Intelligente di testa Questo è un 5 Questo è un 3 Questo era un 4 3 4 5 Quante cifre è l'u codice? Ne è 4 però E il 6 Perché dite 6? Perché? 6 perché? Qua ci sta l'u codice O qua E dove sta scritto 6? Ah dei cortelli? 3 3 Ma siete sicuri? 3 4 5 6 Che cagata 3 4 5 6 Wrong Dio cristo Ma devo fare la cosa? 5 4 3 6 3 4 5 6 No questo non andava 6 5 4 3 5 4 3 6 3 6 4 5 Porco 5 3 6 4 E vaffacolo Che cazzo è? 3 6 4 5 E porca De quella troia 5 3 6 5 3 6 5 4 OE Grande Tu sei un genio Ma c'è base pure E come cazzo L'attraverso sta Buon L'u barco De quel cane OID De quella puttana De mamma Da quella zoccola Ma ne sputa sangue Chi cazzo Ti ha inventato Gioco da merda OID Che d'è qua Che d'è Che d'è L'elettricista qua Che d'è Che giochi de merda Che d'è qua Ah Che c'è stata Che è Un pene Una cappella Che roba è Una cappella Un occhio Che cazzo è Che d'è qua Ah Le campane Belle Mi piace Oh Trova l'u piede del porco Do sta l'u piede del rubo Chi è Do sta l'u piede del porco Questa è una sega Qua c'è sta la madonna Do sta l'u piede del porco Accendo la luce Do sta l'u bursante Porca Non me la fa accendere la luce Sulla sedia Ma ci sta Sto piede del porco Do sta Dentro l'armadio E su Porca Troia Sto a rompere i coglioni Guarda Gioco De merda Già Che non mi piace Come gioco Do sta Sta appeso Da qualche parte qua Ma vaffanculo Vaffanculo Xaxa Xaxa Siamo le droghesi No Ah eccola Era così facile E porca Oh No Dove trovo Gnomo De dio Allora Chi è che sta a piscià Ma chi è che piscià Do cazzo Che devo trovà Quattro giocattoli Ok Accendo la luce Chi è Chi è cadonato Chi è Ah La palla di Natale Eccola Chi è Un regalo Do sta Dentro l'ucesso Do cazzo Sta un regalo Che d'è qua Chi è Chi è Chi è Or bella Little white And I wonder From the frame Jingle bell Jingle bell Jingle bell Jingle All the way O cazzo sta Sti regali Della madonna And I wonder From the frame Madonna Che paura Orco diavolo Ma che fai Ania Ma che mi mòi E Un appare Tra poco lo sapevo Poito Proffio Jogo di merda Lo sapevo Tu gioco E talmente merdoso Che è normale Che fa paura No Dato Eccolo qua Buon Natale Ci sta pure qua Ecco io Meti il laberu Vai Io Adobba Prasnei Chi è Che tu Chodis Tam Stucis B*** Ты в corse Che У меня Болторец Cioè Tu com'è Su com'è Su com'è L'ugazzo No Maximum Cosa 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 Bogni Eto Poidei Star Ebanut Emaniac Cosa De Sich Porca Troia E finito Che gioco De merda Altro Che gioco Dell'anno Gioco Dell'anno No No No